ciao ragazzi faccio questo primo mio video demo speriamo di una lunga serie per condividere con voi quello che mi passa per le mani e ho il piacere di presentarvi questa creatura meravigliosa partorita dalle mani del noto liutaio alberto gallinaro che oltre a salutare anche un creativo perché effettivamente non c'è bisogno di di scoprire di tanto dato che questa chitarra presenta subito una cosa che salta gli occhi vero la buca che non è la classica posizione dove siamo abituati a vederla ma è nella nella parte superiore l'ottica chiaramente è molto particolare sembra sembra rotta la chitarra in realtà la chitarra è perfetta e anche di pregiatissima fattura e il motivo di questa scelta è un esperimento che ha fatto alberto basandosi sul fatto che quando noi suoniamo la chitarra acustica chiaramente noi non ascoltiamo il suono che ascoltano i nostri diciamo i nostri spettatori ma ascoltiamo una riflessione di quel suono lì chiaramente portando la buca in questa posizione noi possiamo ascoltare il suono diretto così come lo ascoltano diciamo le persone che ci stanno davanti una delle cose che all'inizio quando albertone aveva cominciato questo progetto temevo era il fatto che comunque in questa posizione si sacrificasse anche l'ascolto di quelli di chi sta davanti in realtà il video e il demo di questa che vi sto facendo serve proprio a darvi l'idea di di come voi ascolterete la chitarra e come la ascolta il suonatore infatti come vedete c'è un microfono di sopra un microfono a condensatore e contemporaneamente ci sono i microfoni in stereo della telecamera telecamera che ha una zoom a q8 telecamera fatta apposta per registrare l'audio quindi l'audio è proprio esattamente così come come lo ascoltate allora vi do alcuni dettagli tecnici sulla chitarra che è una chitarra medium jumbo come come forma manico in mogano cipo fondo e fascia in palessandro brasiliano e la tavola armonica in in abete sitka alaska tutto materiale di primissima qualità tastieri in ebano tutte diciamo sia i pioli diciamo il ponte e il capo tasto sono in puro osso nessuna materiale plastico e la le meccaniche sono delle gotto cromate e ci sono altri dettagli che migliorano sensibilmente la sensibilità e la suonabilità delle chitarre innanzitutto il diciamo il profilo inferiore della del tacco come vedete sagomato questa è una caratteristica di tutte le chitarre di alberto per rendere chiaramente più facile l'esecuzione nella parte alta della tastiera è un'altra cosa che di derivazione di chitarra elettrica lo vedete probabilmente nelle sfumature della luce attenzione eccolo qua ovvero la parte superiore della chitarra è sagomata come come nelle chitarre elettriche anche questo chiaramente migliora tantissimo e questo è lo potete verificare immediatamente quando imbranciate lo strumento migliora tantissimo il comfort di suono suono che adesso chiaramente avete aspettato e vado a farvi a farvi sentire proverò diverse tecniche io non sono chitarista acustico sono chitarista elettrico ma cercherò di darvi l'idea delle varie sonorità partendo diciamo da dagli arpeggi per poi andare diciamo allo stramming e varie a giocuzione ok adesso avete sentito il suono dai microfoni della telecamera faccio la stessa cosa però facendovi ascoltare il suono che invece viene captato dal panoramico che è in corrispondenza della bocca grazie a tutti notare il sustain adesso faccio la stessa cosa però la sentirete captata dal microfono condensatore messo vicino alla buca no 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 no